Dal dossier IDOS UNAR 2014 emerge la fotografia della presenza straniera in Italia connotata sicuramente da un primo aspetto che è quello della radicalizzazione e stabilizzazione della presenza straniera e da un secondo aspetto che è quello della maggiore movimentazione dei flussi soprattutto quelli in uscita. In effetti un dato su tutti è quello sicuramente di una presenza straniera che ha raggiunto a seconda delle varie fonti utilizzate quasi 5 milioni di stranieri in Italia che costituiscono circa l'8 per cento della popolazione residente, un numero di acquisizioni di cittadinanza italiana che è segnale del profondo radicamento della popolazione straniera che ha aumentato molto tra il 2012 e 2013, parliamo sia di acquisizioni di cittadinanza italiana per matrimonio che per residenza. Nello stesso tempo un numero molto elevato di minori, parliamo di circa un milione di minorenni stranieri presenti in Italia con una componente all'interno delle scuole molto importante e ricordiamo che più della metà dei bambini stranieri presenti nelle scuole italiane è in realtà nato in Italia, privo della cittadinanza ma nato e scolarizzato in Italia. Un trend invece in controtendenza rispetto a quanto avvenuto in passato è quello delle nascite. Per la prima volta le nascite di bambini stranieri è in calo e in questo senso abbiamo un avvicinamento rispetto alle tendenze che riguardano anche le donne italiane con tassi di fecondità storicamente in calo e molto bassi. Quindi radicalizzazione ma nello stesso tempo anche una situazione movimentata dal punto di vista dei flussi. Sappiamo che la crisi economica ha profondamente segnato l'attrattività esercitata dall'Italia sugli altri paesi perché i flussi hanno un ritmo molto rallentato negli ultimi anni. Nello stesso tempo abbiamo un maggior numero di persone che decidono di lasciare l'Italia. I numeri sono ancora relativamente bassi ma sicuramente rispetto agli anni precedenti alla crisi economica un maggior numero di cittadini stranieri decidono di lasciare l'Italia. Sul fronte del mercato del lavoro è altrettanto evidente l'impatto della crisi. L'occupazione è in calo, parliamo comunque di circa 2 milioni e 400 mila occupati stranieri in Italia che costituiscono circa un decimo del totale dell'occupazione in Italia. Chiaramente la mano d'opera straniera è ancora ampiamente radicata e diciamo così maggiormente inserita nelle professioni a bassa qualifica, molto di più rispetto a quanto accade per gli occupati italiani. Le retribuzioni medie mensili degli stranieri sono ancora molto più basse rispetto a quelle degli italiani e addirittura il 40% circa degli occupati stranieri si ritrova impiegato in occupazioni che non richiederebbero il titolo di studio elevato che invece è a capo di molti appunto cittadini stranieri. Grazie a tutti.